Ciao ragazzi e bentornati sulla mia pagina Facebook e sul mio canale YouTube. All'interno di questo video voglio rispondere ad una domanda che c'era sul mio canale YouTube che mi sono salvato, ossia l'endurance fa incrementare la forza e l'ipertrofia oltre che la resistenza di domanda? Allora, non è una domanda molto semplice, nel senso che si cerca di paragonare delle gestualità che hanno dei tempi sotto tensione che sono diversi e di conseguenza se cambia la bioenergetica del gesto che nel nostro caso può essere direttamente connessa al tempo sotto tensione cambia anche i risultati che si possono ottenere quindi per dare una risposta a questa domanda dobbiamo analizzare in modo separato questi due tipi di prestazione che è uno la prestazione legata alla forza massimale e quella la prestazione legata allo sviluppo dell'endurance Nel contesto di quello che può essere lo sviluppo di una determinata gestualità la realizzazione di un certo gesto, la prestazione sportiva la prima cosa da analizzare è la bioenergetica del gesto chi comprende questo dettaglio sostanzialmente come fa notare anche Tudor Bompa e Carlo Buzzichelli nel loro libro comprende gran parte di quelli che possono essere i requisiti necessari per pianificare nel medio e nel lungo periodo un miglioramento della prestazione all'interno di una gestualità per esempio, se noi stiamo facendo una prestazione che dura da 0 a 6 secondi all'incirca l'intensità è massimale e siamo prettamente nel range dei fosfati se noi per esempio ci spostiamo dagli 0 ai 30 secondi stiamo utilizzando un'intensità che non è massimale ma che generalmente è vicina al massimale ed è una bioenergetica ibrida tra il sistema dei fosfati e tra la glicolisi anaerobica se ovviamente andiamo su con i tempi di stotensione è ovvio che i fosfati tendono a venire sempre meno quindi per esempio se andiamo oltre i 2-3 minuti l'intensità per forza di cosa è moderata perché se l'intensità è troppo alta non riusciamo a mantenere dei tempi di stotensione molti elevati e sicuramente siamo ai livelli della glicolisi anaerobica e aerobica quindi mi capite ha una certa intensità corrisponde un certo numero di ripetizioni corrisponde quindi un certo tempo totale stotensione corrisponde un certo carburante quindi se tu principalmente ti alleni con la forza e ti abitui quindi ad utilizzare un certo carburante e a rimanere sotto tensione sempre un tot allenandoti sempre in intensità alte è ovvio che non ti puoi allenare nello stesso momento con lo stesso allenamento ottenere un beneficio uguale anche per una situazione dove il sistema bioenergetico è completamente diverso come per esempio quello dove siamo sui 2-3 minuti dove c'è una glicolisi anaerobica e aerobica ma la cosa vale anche al contrario perché se io mi alleno con tempi di stotensione che sono di 60-90-120 secondi sto usando un'intensità troppo bassa per avere dei benefici a livello neurale come avrei se invece usassi tempi di stotensione più corti che corrisponderebbero magari a sforzi con intensità più alta ho detto magari perché non è detto che se tu ti alleni per 10 secondi è perché stai usando un'intensità altissima potresti usare anche un'intensità bassissima e allenarti per poco quindi questo è un pochino il succo del discorso se tu fai l'allenamento con tempi di stotensione molto elevati per forza di cose devi essere anche già forte va bene? quindi essere forti ti dà una buona base per spostare più facilmente un carico più basso carico più basso che puoi spostare tante volte in un allenamento di endurance ma se ti alleni sempre in endurance automaticamente non diventerai più forte quindi diciamo che la relazione è più in favore con una freccia dalla forza verso l'endurance ma non dalla endurance verso la forza quindi spero di avervi fatto capire come analizzando una cosa semplice come la bioenergetica di una certa gestualità si riesca a capire come possono sussistere delle relazioni che sono biounivoche cioè che vanno da una parte o anche dall'altra e dall'altra oppure solitamente da una parte in merito a prestazioni all'interno di un certo contesto come può essere lo sviluppo della forza massimale oppure lo sviluppo dell'endurance ok? ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti